Sì, allora, una partita quasi perfetta, il modo migliore per arrivare ai semifinali. Assolutamente sì, ci aspettavamo un'altra partita perché sappiamo che qua a Busto è difficile col pubblico, Busto è una squadra che non molla mai, quindi eravamo veramente pronte di testa. Penso che siamo entrate con la concentrazione al massimo dall'inizio alla fine, con la voglia di prenderci subito questa semifinale. Molto importante anche risparmiare le energie, insomma, in vista della prossima settimana. No, beh, assolutamente, fare una partita in meno e avere una settimana piena per preparare la prossima partita vuol dire tanto, quindi meglio così. Senti, com'è giocare con un'opposta così che ti fa 25 punti in tre set? Beh, bravissima, Kate ha un talento incredibile, soprattutto per l'età che ha, penso che deve crescere ancora tanto, ma veramente brava. Voi la vedete crescere giorno dopo giorno, praticamente? Sì, ha voglia di spingere, di lavorare, di arrivare, quindi questo penso che sia la base di tutto e si vede. Grazie, com'è.